Non c'è una posizione al vertice, una palla bassa può essere pericolosa. Palombo mette fuori per Cuberti, controllo e tiro di Cuberti! Grandissimo gol di Cuberti, 1-1, la prima rete con la maglia della Samp di Stefano Cuberti. Anche a un'altra palla di cuberti, 1-1, la prima rete con la maglia della Samp di Stefano Cuberti. Grazie.